In questo altro capitolo, invece, che è quello che giocheremo stasera, che si chiama Entity Exam, ok? Sempre della saga di Lancaster League. Dovremmo svolgere dei test, un esame, un quiz, ok? Quindi direi di non perderci troppo in chiacchiere e di farlo. Devo fare... Ah! Ambi, dai, mettiamo Ambi. Password. Sono Bella. Undici. Bella. Neanche bella. Bella. Oh, è un nostro... Fighissimo. Allora, dobbiamo imparare. Prima dobbiamo fare, diciamo, il tutorial. Allora. Detect... Ok, riconoscimento facciale. Ok, oddio, è a tempo, non avevo capito. Ok, ok, sono velocissima. Ok. Queste non sono facce molto rassicuranti. Vai, era Einstein, quello. Oddio. Forse ho sbagliato. Ma queste non sono persone. Ma queste non sono persone. Aiuto. Questo non ha una faccia. Ma non è una faccia. Che cosa devo cliccare? Vaffanculo. Pezzo di merda. Ok. Dobbiamo allenarci nelle varie situazioni. Ok. Ho paura. Ok. Quindi trovare prove. Eliminare le problematiche. Corre via. E... Terminare se stessi. Tipo... Siamo. Va bene. Ok. Un'entità... Ha ucciso i tuoi parenti. Ma non è più stile. Che cosa fai? Collezioniamo... Eh... Dati. È un perfetto momento per collezionare dati. Dopo una missione, un'entità... Sconosciuta... Ti ha seguito a cosa. Hai provato a sparare all'entità... Eh... Ma è stato inutile. Ti sei chiuso in una stanza. Cosa fai? Collezioniamo... No. Ah ok. No. Dovamo scappare. Ok. Stai riportando con te dei nuovi dati su un'entità. Senti il tuo partner, al piano di sopra, piangere e chiedere aiuto. Sai che probabilmente... Verrai... Oddio, che facciamo? Rimini. No. Non rischiare di perdere l'età. Raga, qua mi diamo bucciati. Aiuto. Ok, hai avuto un'interferenza che non ti è stata chiesta. È in una missione di studio. La l'entità sta uccidendo cittadini. Uno è un tuo amico. Ti è stata data un'arma abbastanza forte per uccidere l'entità. Registriamo. Seguire la missione per un collo. Ah, dovevamo farlo fuori. Eh, abbiamo fallito. Dobbiamo studiare di più per l'esame, ragazzi. Qua veniamo bocciati, eh. Veniamo bocciati. Ah, però... Allora... Double Ganger. Magano. Quindi mi manca qualcosa o qualcosa è sbagliato. Ok, quindi dobbiamo scovare qual è il Double Danger. Iniziamo. Lei? Perché gli manca l'occhio? Eh, lui? No, 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 no. Lui. Lui. Ok. Boh. Lei? Ok, ce ne sono alcuni evidenti, alcuni per nulla il bambino. Maledetti bambini. Direi lei. Il sorriso un po' inquietantino. Lei? Era un po' schiacciata. Lui, direi. La signorina ha gli occhi neri. La signorina aveva gli occhi neri. La signora ha gli occhi neri. Il sorriso è al contrario. Direi che... Ok. Ok. Va bene. Passato. Ok, su questo siamo bravi. Su questo siamo bravi. Pacce, The Ball Ganger, ce la facciamo. Ok. Dobbiamo riconoscere le immagini. Quindi, iniziamo. Ah, ho sbagliato, scusate. Direi che è una problematica. No, treat. E che prima di qua mi aveva messo safe, quindi il mio cervello... Treat. No, dai. Io non salirei mai lì. Treat. Col cazzo. No, ciao, Serena. Mi fa piacere. Ma non salgo proprio là sopra. Sicurissimo un bosco. E io. Ciao, bello. Ci vediamo domani. Un piccolo. Sore, quel collo. Dai, no. Io non andrei mai in un manicomio così, sore. Dai, non pigliamoci per il culo. Non pigliamoci per il culo, per favore. Anche se quella era l'immagine di prima dell'amico che vuole l'aiuto. Però... Ah, sta sempre dando meno tempo... Per rispondere. A mio parere, è molto curioso. Ok, passati. Pensai di 30. Va bene. Io sinceramente, in alcuni posti, secondo me, erano palesemente ostili. E non ci sarei andata neanche se mi avessero dato un milione di euro. Forse con il pit. Con il pit ci sarei andata. Oddio. Dobbiamo... Oddio. Discrizioni audio. Dobbiamo prendere enter quando abbiamo fatto. Va bene. Eh, ma io non so scrivere in inglese. The quick dog brown jump... E non ho capito. Do not look behind you. Do not look behind you. Ok. You are weak and replaceable. Grazie. C'è... Le... Dio non so scrivere, raga, non lo so. Cloudy? Non ho capito. Everything is fine. Everything is fine. Everything is fine. I can see 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 this so often. I can see the... Can'tle. Do not hear me. Hear me. Ma non c'è il studio di più che non so l'inglese e non ci capisco nulla da niente Già faccio cagare Poi se mi metti gli auri Non capisco niente amore della mia vita Amore della mia vita Oddio Entity 101 Aiuto Vediamo cos'è l'entità 101 Iniziamo Proviamoci E' un rake questo Questa è una macchina No era machine Giusto Shadow people Skinwalker Nonono Forse era un altro skinwalker Sempre Catture entity No no Skinwalker Blue skin Ma forse per cosa lo riconosce Ne avevo capito In 1-3 ore Li fanno fuori Ma come? No Vabbè Non facciamo niente Dobbiamo prendere i dati Raga faccio cagare Faccio cagare Verremo bocciati all'esame Vabbè raga Famo sto esame Vediamo Che paura E' un miscuglio di tutte le cose Che abbiamo fatto Vai Iniziamo La faccia Ok Ok Le fascine Lei Did you check the latch Did you check the latch Ok Scritto in maniera ambigua però Collect evidence No No Sbagliato Il contrario Cretino Yeah The one on the right Right On the right Fortissimo Collect data Collect data Ci facciamo fuori Va bene Elio inverti Ma sarà una pretina Quanto sarà una pretina Da 1-105 milioni Shadow people Come no Non ti serve Sempre dati Are you serious? Are you Erious Un pisino Un pisino Just kill Ma che c'è De ne ha capito Banno No Trit 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 Observe Noi osserviamo Non salviamo nessuno Dobbiamo collezionare dati Questo è uno skip walk Prima era lo skip walk Questo Shadow people Visino Ti piace drillino Tu sei strano Frate E tu sei strano Grit Cugano i pagliacci Poi Bacca Troia Non sei adatto Per fare la gente Verrai Fatto fuori Ambra No Non sono io No Io sono Smettila di guardare Prima che loro ti trovino Scusa Ricca Io non gli ho messo il mio nome Io ho messo Embi All'inizio Da dove l'ha preso? Da dove cazzo l'ha preso? Grazie a tutti